L'utilizzo smodato di antibiotici può creare danni a volte irreparabili, specie se parliamo di contrasto, alla pandemia da Covid-19. Se ne è discusso a Napoli a margine di un convigno dal titolo Antibiotic Resistance at Time of Covid-19, svoltosi all'Hotel Royal Continental. L'interazione tra infettivologi e specialisti di altre discipline nell'ambito dell'attività formativa è vitale per rispondere al meglio alle sfide sul fronte delle malattie infettive. Sono necessari dunque approcci nuovi per affrontare problemi già noti che la pandemia da coronavirus ha oscurato, ma non certo cancellato. A parlarcene il professor Ivan Gentile. Da alcuni anni siamo di fronte ad un'altra pandemia che è un po' meno conosciuta, ma non meno pericolosa, che è quella delle infezioni da germi multiresistenti. Covid ha un po' accentuato quello che è un fenomeno di aumento delle resistenze. La Campania è una delle regioni con i tassi più alti di antibiotico resistenza in Italia e l'Italia è una delle nazioni con il maggior tasso di morti in casi di infezioni da batteri multiresistenti. Covid ha accentuato questa tendenza perché siamo di fronte a un utilizzo spesso incongruo di antibiotici, antibiotici che vengono usati per combattere una malattia virale come Covid e qui oggi in questo convegno parteciperanno le massime autorità italiane in tema di antibiotico-terapia. Faremo proprio il punto della situazione su un utilizzo che deve essere quello congruo degli antibiotici, quindi di fondo un antibiotico su una malattia virale come Covid non va utilizzato, se non in particolari situazioni, faremo il punto anche su quelle che sono le sovrainfezioni batteriche in Covid che pure avvengono e che vanno sapute gestire con antibiotici di nuova generazione che riescono a contrastare questi ceppi. L'antibiotico resistenza, la sepsi, le infezioni nosocomiali e quelle invasive in soggetti fragili rappresentano soprattutto in questa fase emergenziale un problema da non sottovalutare. A parlarcene il dottor Nicola Coppola. Dobbiamo stare attenti perché l'uso di indiscriminato di antibiotici si associa poi allo sviluppo di resistenze, quindi dobbiamo fare in modo di utilizzarli bene e utilizzarli quando serve per il bene del paziente ma anche per il bene della comunità.